Pervenuti in questo nuovo video Allora, oggi volevo farvi vedere tutti gli orecchini che ho comprato per Natale quindi comunque tutti gli orecchini del periodo natalizio li volevo far vedere a voi così mi dite cosa ne pensate Allora, questi sono la prima coppia, non so se li vedete bene ma sono a ghirlanda, molto natalizi con dei piccoli svaroschi rossi col fiocchettino, molto belli e questi qua vengono col gancetto Guardate che sono belli ne provo uno solo così ve la faccio vedere da vicino guardate che bello, che amore ok allora, fatto vedere questo scusate ma non riesco sempre a toglierli facilmente vi faccio vedere questi qua questi qua sono sempre da appendere quindi con il gancetto, con l'uncinetto sopra questi qua sono a forma di non so come si chiama si chiama zucchero stecco lo stecco natalizio, quello zuccheroso questi qua sono molto natalosi e a me piacciono tanto quindi vi faccio vedere anche questo provato eccolo qua guardate come sta molto scicchettoso bellino natalizio semplice ok andiamo a vederne altri allora, questi qua secondo me sono non dico i più belli però quelli che attirano più l'attenzione per Natale perché come vedete sono a forma proprio di pallina di Natale e se vedete bene hanno anche il vischio ho notato che se avvicino la videocamera non si vede bene poi devo correggere questo errore questi qua molto natalosi che a me piacciono tantissimo sono molto appariscenti ma natalosamente belli come potete vedere poi passiamo agli ultimi si toglie ok tolto scusate ma non sono brava allora questi qua io ne prendo sempre pochi perché comunque non sono comodi come quelli che vi ho fatto vedere prima e sono sempre con lo stecco zuccheroso piccolini però dietro hanno il chiodino questi qua non so se riuscite a vederlo ma sono il chiodino questi qua sono anche molto bellini per chi magari non vuole orecchini troppo grandi o vistosi e come vedete stanno molto molto carini ok detto questo se lo togliamo rimangono gli ultimi io non so se si vedranno bene con la mia videocamera però ci provo questi qua sono non sono natalizi però li ho presi per capodanno forse da lontano si vedono meglio sono con la perla e poi tutti i svaroschi zirconcini diciamo a girare questi qua sono anche a chiodino e sono molto carini vederli messi comunque con una collarina di perle o qualcosa sono molto eleganti detto questo la piccola piccolo video è finito spero vi siano piaciuti se avete qualche suggerimento o volete sapere dove li ho acquistati potete cliccare potete vedere tutto in descrizione e niente buon natale a tutti